ora cosa eeeh finiamo l'obiettivo guarda quanto si fa fai zitto miglia mi ha tirato georaptic abbiamo scelto con georaptic di ml e porco dio c'ha la conoscenza del burulli qua che saranno le bombe due colpi sul piede qua uno due colpi ti rendo la risciata si smasciò vabbè è da skill ti ha scelto il cazzo ti ha scelto il cazzo no no filo ti ha scelto sii oh mamma no hai gli ultimi brucio perchè abbiamo una mano io non filo la mano andiamo ad aiutare i guai vado guarda aiutare vado guarda aiutare eeeh non ho due mid se lo uccide vado se lo uccide hai vinto se lo uccide hai vinto grazie 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 grazie